Pronto buongiorno, io sono Domenico e chiamo dalla direzione commerciale di Enel Green Power. Pronto chi parla? Sì sono la titolare, può parlare con... Domani, nella sua città sarà prenisente, un consulente commerciale dell'energia alternativa. Me, perché dovrei essere interessata al fotovoltaico? Fotovoltaico, solare termico, mini eolico. Un impianto fotovoltaico è la migliore scelta per avere energia prodotta, pulita, rinnovabile e che può anche portarle... Senta facciamo così di cal commerciale che sarò disponibile in casa alle 15. Sarò insieme a mio marito. I'm coming up so you better get this party started. I'm coming up so you better get this party started. Allora grazie a lei e buon lavoro. Bene allora confermo la punta Mneto per domani alle 15. Buona giornata.